ciao a tutti ragazzi bentornati a questo mio canale qui vi parla estimo da 2000 e oggi ragazzi siamo tornati su batten alcam city per l'undicesima parte della nostra serie mi raccomando ragazzi come in ogni episodio vi invito sempre a lasciare un bel like se appunto il video vi è piaciuto commentate il video se ne pensate iscrivetevi soprattutto ragazzi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video ok ragazzi a questo punto possiamo andare avanti let's go ok dunque ragazzi vi ricordate nell'ultimo episodio siamo andati alla ricerca di mr freeze qui siamo nel museo del pinguino e abbiamo trovato mr freeze che c'è dato delle indicazioni riguardo al fatto che lui attualmente non può creare la cura che ci serve per curare tutti quelli che sono stati infettati dal sangue di joker compreso anche batman per creare questa cura ha bisogno della sua tuta e che noi siamo andati praticamente a recuperare insieme anche a un dispositivo in grado di possiamo dire disattivare l'arma di freeze che adesso è tenuta dal pinguino quindi adesso dobbiamo soltanto sistemare il pinguino mentre mr freeze pensa praticamente a indossare la tuta e poi a creare la cura che ci serve inoltre abbiamo anche salvato gli altri agenti di polizia e mancano solo due che saranno appunto qui nell'iceberg lounge e infatti siamo proprio qui ragazzi l'iceberg lounge il posto più importante possiamo dire di questo museo dove appunto qui si trova il nostro caro pinguino quindi ragazzi andiamo ad affrontarlo e facciamogli un bel paliatone allora ok perfetto siamo alla resa dei conti oswald andiamo eccoci hai finalmente trovato gli attributi per venire da me buona fortuna grazie grazie e tributi è fuori che cazzo ma che cazzo qual è l'arma di freeze ma è che me ne sono accorto ma quelli sono le due agenti di polizia e adesso non posso girarmi questo ci spara dobbiamo fare il giro secondo me per prenderlo ok va bene cerchiamo di fare così è così passiamo tutto vai perfetto attento 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 e sto venendo sto venendo eccomi hai ancora aspetta forse ok eccoci ho deciso di regalarti un'occasione grazie va bene adesso vediamo subito ragazzi la nostra nuova arma che abbiamo preso nel precedente episodio adesso guardate cazzo troppo vicino va bene e infatti eccolo devo ancora usarlo ragazzi quindi non ci fate caso la prima volta lo uso vediamo un po tiene premuto a ok perfetto che c'è non ci riesci avanti forza trovaci che cazzo che ti pareva ho cercato di aiutarti batman ti ho dato l'opportunità di chiudere tutto e andartene ma oh no dovevi fare il gran duomo beh indovina un po da qua sopra sei davvero piccolo senti ma parla per te che sei un nano di merda non fare quella faccia ho una sorpresina per te la giù eh no eh no dai eh ma quante scariche elettrici stai dando cioè se qui ci pensiamo noi con la nostra carica elettrica remota di una mano a mano eh vabbè e vabbè e spezzato di giovedì bastonato di venerdì è distrutto di sabato è freddo di domenica quindi ora tu mi stai dicendo che devo affrontare questo colosso eh ah comunque solo un grande se vi ricordate ragazzi nel pare due mesi fa abbiamo trovato anche un manifesto sottoterra riguardo lui ecco questo ma come lo affrontiamo eh cazzo gel esposivo rapido è un po' l'esplosione qua vulnerabile è un'esplosione controllata quindi dobbiamo usarlo là e le gel esposivo rapido qui ok aspetta vai che diavolo stai facendo ah ok va bene quindi qua dobbiamo usarlo oh attento aspetta adesso o invece si boom oh mi sento male male e ne ecco avanti combatti da uomo avanti forza fammi divertire ah ma allora telecerchi vediamo quanto regge quel brutto figlio di puttana oh ma che so questi termini qua mi censurano il video per troppo volgarità hai capito? ah ecco la sua massima potenza vai ah solo un grande full power ecco vai così chissà che male quel colpo ecco chissà che male quel colpo è ragione proprio il mio colpo chissà che è male attento adesso questi dolermi che cazzo sono oeeh vai 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 aspetta eh te eh lo sapevo aspetta adesso vai così preso ecco avanti tutto qui forza fammi ballare bello hey oh hey oh hey boom cosa hai fatto brutto non la puoi ammazzare la puoi ma tu ti sei zitto che guarda di fronte alla mia onnipotenza si abbassa anche lui adesso finiamolo ok colpo di grazia dai che cazzo ma guarda un po' nooo quel bastardo non si può ammazzare davvero se parli un altro po' invece di ammazzare lui vengo ad ammazzare teia che cazzo vuole fare questo prende elettricità ooooh eeeh batman subito liberati subito avanti liberati subito no ok questo sto mettendo ancora la sua potenza poi dobbiamo farlo aia e vabbè si 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 un altro po' di elettricità no fermo sono pezzi antichi lasciali stare pezzi antichi vai ti do anche un po' di carica coraggio vai aspetta eh no no vai gel esclusivo ok basta basta cosa eeeh avanti avanti colpo di grazia di me che sei finita di questo veramente forse da per essere il piuttosto che abbia mai affrontato fino ad ora più resistente potrei dire ok perfetto e ora cosa facciamo bel passaggio eh avanti forza vieni qua ah guarda ti prendo addirittura il cuore guarda ecco qua non hai più il cuore ah eeeh eeeh restiamo solo noi due pipistrello contro volatile uff ho ho finalmente ci ho scoperto eh non ci posso vieni qua E sta giù, finalmente, l'abbiamo preso Ah, giusto, tu lo volevi, eccotelo qua, te lo regalo, tutto tuo Ah, guarda chi c'è, mister Ah, che dolore Basta Freeze Basta, ovviamente Ah, sì, ti pentirai di ciò che hai fatto, mister Cobblepot Leggermente incazzato Leggermente, eh Porso, della cura, che mi dici? Non c'è una cura Cosa? Che hai detto? Il gel clown è stato facile Sfortunatamente, la cura si deteriora rapidamente Occorre un elemento ristrutturante Una sorta di enzima ricombinante Senza, si degrada troppo Prima di avere effetto So di cosa parli Trovare l'enzima giusto non è il solo problema Deve essere adattato Legato al DNA umano Ci vorranno decenni Ma tu non hai tutto questo tempo E se ti dicessi che conosco un uomo che è stato esposto a quell'enzima per secoli? Chi sarebbe? Il suo nome è Rajal E infatti me lo ricordavo Tipo questa tizia che si stava proprio In bestialendo Blasfemo Non sporcare con la tua bocca il nome di Rajal Ghul Sei uno stolto, Batman Hai lasciato che la tua unica speranza scappasse No Se Rajal Ghul è a Darkhams Ora ho una traccia che mi portare Interessante Quella trama si fa sempre più bella ragazzi Adesso c'è anche Rajal Ghul di mezzo Solo un grande, vabbè Eh, sei tu Conosco più o meno la sua storia ragazzi Comunque È un tizio che si è trasformato in questo essere orrendo Con cui c'è la sua storia e le sue caratteristiche Se volete guardarlo Ok, andiamo avanti ragazzi Abbiamo finalmente sistemato anche il pinguino Perfetto Adesso c'è di mezzo anche Rajal Ghul Comunque davvero un plauso A chi ha scritto la storia di questo gioco Che è veramente spettacolare Ok, la scena è per prove Ok, scansioniamo questo il sangue dell'assassina Ok Oracle, nuovo piano Sono sulle tracce della Lega degli Assassini Perché? Che c'entrano con tutto questo? Aspetta un attimo C'è forse di mezzo Raj o sua figlia? Il pinguino aveva imprigionato uno degli assassini della Lega nel museo Ho riconosciuto lo stemma È una delle guardie scelte d'Italia Lo sapevo Chi avrà mai quella donna per diventare di colpo la persona più importante della tua vita? Il mio obiettivo non è Italia, Barbara Ho analizzato la cura incompleta di Freeze E pare che la risposta Sia nel sangue di Rajal Ghul E va bene Bruce, vai a cercarlo Ma resta concentrato Questa volta non lasciare che ti ostacoli Non preoccuparti Oracle, ci penso io Rajal Ghul Ragazzi, questo qui appunto è Rajal Ghul Adesso non lo potete vedere perché dobbiamo ancora incontrarlo Beh, la sua storia comunque è questa qui Diciamo che lui è il capo di questa Lega degli Assassini Il cui veronome appunto è la testa del demone Lui possiamo dire che ha più di 600 anni Grazie alle cosiddette fossi di Lazaro Che gli permettono di essere immortale E di ringiovanire ogni qualvolta che lo si voglia E addirittura lui ha sempre voluto Batman dalla sua parte Infatti Batman ha avuto anche una relazione con la sua affascinante figlia Ovvero Talia Però comunque Batman non è mai voluto entrare a far parte di questa Lega Perché Diciamo Batman si sa non uccide Questi che praticamente sono degli assassini Uccidono Ma però Per motivi Diciamo ragionevoli Ovvero per La Per uomini Possiamo di tizi cattivi Malvagi Criminali si può dire Però battono con questi sanno Non uccide Quindi Infatti riconosce in batto un degno avversario Ok perfetto Ok qui abbiamo sistemato tutto Qui sono i poliziotti appunto Ah e poi c'è anche Italia E infatti neanche li possiamo vederla Questa praticamente è la figlia di Rachel Gould E ha avuto molte relazioni con Batman Infatti anche duellato in diverse occasioni E lo considera anche un degno avversario Però comunque in ogni caso Batman non è mai accettato di essere anche un assassino Batman si sa com'è È un grande È il nostro idolo Perfetto Quindi vabbè qui ha distrutto tutto Ora dobbiamo seguire quindi Con questo scanner Ah ecco quindi così D'accordo Eh infatti mi ricordo Anche in Arkama Asylum Ragazzi vi ricordate abbiamo dovuto seguire le tracce del Ehm Non mi ricordo di come si chiama Comunque dovevamo seguire le tracce Di questo scanner Per riuscire a trovare quel tizio Non mi ricordo adesso Forse è anche meglio così che non mi ricordo Così non vi spoilerò nulla di Arkama Asylum Nel caso in cui non avete visto la mia serie Se qualcosa ragazzi La trovate sul mio canale Disponibile tutta la playlist completa di Arkama Asylum Va bene A questo punto ragazzi Vediamo un po' freeze anche cosa ci dice Sei sicuro che quell'uomo Abbia l'ingrediente mancante? Ho incontrato Rajal Ghul molte volte Dice di avere oltre 600 anni E gli credo Il che significa che ha un segreto per l'immortalità Speriamo che tu abbia ragione Batman Dopotutto Ne va della tua vita Effettivamente E tu car pinguino cosa ci dice adesso eh? Non è finito E invece si E' proprio finita Sono paziente Posso aspettare La pazienza delle versute forti Caro Mr. Cobblepot Ragazzi qui sono tutti i poliziotti che abbiamo salvato Adesso sono sicuro Ok a questo punto Seguiamo lo scanner ragazzi miei Vediamo un po' dove ci porta Allora Dunque qua Vabbè non c'è nulla D'accordo E voi cosa dite? Uh ma questo è ferito Ah ma è stato ferito da quella ninja evidentemente Eh Immagino D'accordo Tu invece non dici niente che la demoneta? Terremo sicuro a questo posto Batman Bene Così io D'accordo Allora andiamo ragazzi Ok Dobbiamo uscire sì Perfetto Tra l'altro abbiamo anche questa nuova arma Quindi Molto interessante Il disturbatore intendo Ed eccoci qua Allora dunque Vediamo un po' Utiliziamo 한 per archaeistica Allora La tutela La sua L'indurbo È un po' lieu Di Il IKEA Dubbarm Non Eh ashes Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anzi, più che altro, come avete sentito, i uomini del pinguino sono preoccupati, perché appunto il pinguino non si fa più sentire. Chissà perché, chissà chi è che l'ha sistemato. Iniziatevi a preoccupare. Ok. La traccia di sangue si è esaurita. Unico modo per trovare quell'assassino è individuare altre prove. D'accordo. Ah, quindi, ah, le bende. D'accordo, quindi le bende. Eh, che cazzo! Adesso però basta con tutti questi colpi improvvisi, eh. Eh, dai. Eccoti! D'accordo, avviciniamoci più che possiamo. Avanti. Bene. Molto agile, se vedete. Anche se voglio capire, se dobbiamo acchiapparla, poi dobbiamo continuare a inseguirla. Bene, frate, ma inseguiamola. Poi, se per caso il gioco ci dice cosa dobbiamo fare, lo facciamo. Ok, di qua. Non ci sfugge. Ok, va bene. Un po' di qua. Eccoci qua. Bene. Molto agile. Ok. Oh, sei fermata. Uh, attenzione! E... Opla. Ok, abbiamo messo il segnalatore. Oh, sì. Se sei ancora vivo, è solo perché il grande Raja al cullo consente. Ah, sei zitta. Oh, per... Uh, uh! Fermalo, forza! Il grande Robin! La sistemo io. È arrivato anche lui. Sta indietro. Eh. Non seguirci. Eh, adesso vi seguire come con segnalature adesso. Non mi serve il tuo aiuto. Davvero? Visto da qui non mi sembrava proprio. Avevo il controllo. Perché Alfred ti ha mandato? Era preoccupato per te. Prendi questo. Fallo analizzare e controlla ogni ospedale pronto soccorso. Chiunque lo abbia nel sangue morirà nelle prossime 24 ore. E di chi è? Oh. È il tuo sangue, vero? Già. Controlerò gli ospedali e tornerò qui. Hai bisogno di me? Posso farcela. Gotham ha bisogno di te. Sono tutti in pericolo. Sul serio. Tu credi? Se Strange conosce davvero chi sei. Che cosa accadrà se lo rivela? E poi come... Fidati. Troverò un modo. Speriamo. Siamo tutti in pericolo davvero. Se ti servo, sai dove sono. Lo so. Ora vai. Grande Robin. Ecco il lanciacavo, ragazzi. Tornato da Arkham Asylum. Perfetto. Poi si è utilizzato in volo per cambiare direzione. Sì, me lo ricordo molto bene. Perfetto. Andiamo. Mi piace troppo questa soundtrack in sottofondo. Ogni volta che acquisto un gadget. C'è acquisto ogni volta che lo tengo. Questo qui, ragazzi, appunto, è Robin. Il suo vero nome è Tim Drake. E lui, praticamente, è riuscito a capire anche la vera identità di Batman. E Batman ha scoperto che questo ragazzo aveva delle grandi potenzialità. E quindi ha deciso di addestrarelo e farlo diventare il, possiamo dire, il terzo Robin. Perché comunque ricordiamo, ragazzi, che in realtà i Robin prima di lui erano Dick Grayson, ovvero il cosiddetto Nightwing. E poi Jason Todd, che sappiamo la fine che ha fatto per caso di Joker, che lui era il secondo Robin. E questo qui, appunto, è il terzo Robin. D'accordo. Perfetto. Quindi adesso dobbiamo seguire le segnalature. Ah, eccolo lì. Perfetto. Si seguì l'assassino usando le segnalature per localizzare Raja al Ghul. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, vi ricordo sempre di lasciare appunto me lo vi piace. Commentate il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le prossime notifiche. Soprattutto appunto i prossimi video. Quindi a questo punto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ciao ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.